buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la giornata iniziamo insieme la settimana ormai ci stiamo avviando nella seconda parte del mese di febbraio un mese ancora a mite per quanto riguarda l'inverno vediamo poi le previsioni del tempo che ci conduce al mese di marzo il mese più pazzarello dove le perturbazioni dovrebbero aumentare staremo a vedere perché stiamo vivendo un periodo problematico di siccità ed ora diamo subito un'occhiata all'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ed eccolo il santo di oggi è Beato Corrado Confalonieri il Beato Corrado visse nel XIV secolo era un cacciatore aveva la passione della caccia una volta era anche una necessità ed era nobile era ricco di sostanze ebbene un giorno per stanare la preda aveva pensato di dar fuoco alle sterpaglie purtroppo era all'interno di un bosco e le sterpaglie cominciarono a prendere fuoco e le fiamme a dilagare a dilagare in tutto il territorio tanto che andarono distrutto anche alcune cascine alcune abitazioni di contadini contadini ovviamente si ribellarono chiesero giustizia e fu condannato di questo misfatto un vagabondo che evidentemente non c'entrava nulla ma fu condannato a morte ma nel momento del supplizio Corrado Confalonieri non resistette più a stare in silenzio e si proclamò lui l'autore di quello che era accaduto lui era un nobile quindi aveva delle sostanze fu condannato a risarcire tutti i contadini che aveva danneggiato e lui cadde in miseria dovette appunto prodigare dovrebbe appunto dare tutti i beni e quindi si ritirò senza alcuna sostanza e fece l'eremita da allora la sua vita cambiò si dedicò ad una vita santa al bene per gli altri e fu al momento della sua morte rimpianto da tutti e fu anche santificato ecco appunto il beato Corrado Confalonieri quindi a tutti i Corrado gli auguri per oggi e il loro onomastico vediamo le previsioni del tempo non perdiamo altro tempo vediamo che oggi sulle Marche ci sarà un tempo variabile con qualche possibile piovasco sparso tra il pomeriggio e la prima serata i venti in rinforzo da nord sulle coste da nord nord ovest nell'entroterra da est nord est e le temperature sono in calo 5 la minima 12 la massima il mare è leggermente mosso il sole nascerà alle 7.09 e tramonterà alle 17.39 ed ora apriamo i giornali dopo questo inizio e vediamo il assunto che ci offre questa mattina il resto del Carlino sulla prima pagina vediamo la pagina che riguarda Pesaro tutto esaurito alla trattoria sociale e arriva Landini ebbene è una trattoria particolare ovviamente non è una trattoria del solite si tratta di utopia che coinvolge 60 giovani disabili e funziona funziona ieri per esempio sono stati serviti tantissimi pasti e anche un risultato economico comincia ad ottenersi e poi si parla di sanità San Salvatore va in pensione il primario Bunkeila e c'è un consuntivo della sua attività e dell'attività di reparto e poi si parla del caso Vellini i 5 Stelle attaccano il vice sindaco di Fano per il proliferare di grandi appartamenti di grandi caseggiati al posto delle piccole ville in alcuni quartieri della città di Fano vediamo Ancona a Mancona si parla del mercato delle erbe accelerati i lavori appello degli operatori della struttura tanti disagi non sempre i muratori sono all'opera stanchi di attendere un lavoro che langue e quindi deve essere sveltito e poi c'è un caso un caso che ha così colpito tutti coloro che ne sono stati coinvolti almeno drammaticamente si tratta di un giovane caduto dalla finestra a scuola sembra che non sia all'origine nessun brutto voto comunque le ricostruzioni che fanno i giornali sono un po' diverse poi le vedremo e poi i trattori ancora non si fermano manifestazioni in modo particolare in corteo a Senigallia continua dunque la protesta dei lavoratori dei campi ad Ascoli e a Fermo Marconi candidato a primo cittadino a Monte Urano andremo tra la gente ha dichiarato a San Benedetto sono stati trovati alcuni giovani senza biglietto nei pullman tirano pugni appunto al mezzo e poi ancora nonostante che siamo in quaresima continua il carnevale mascherina d'oro Enrico Petrucci i gruppi vincano i peluche e questo sempre ad Ascoli apre il micam tra le imprese c'è un cauto ottimismo c'è il nodo del credito di imposta questa è una notizia che coinvolge in modo particolare il settore calzaturiero macerata macerata vediamo l'esule di Pola troppe censure sulla nostra storia e poi a Potenza Picena la cultura in lutto è morta la libraia Chiara Bordoni era ancora molto molto giovane Civitanova cemento il sindaco replica al flash mob noi non siamo speculatori ha dichiarato il primo cittadino ed ora apriamo i giornali vediamo approfondiamo le notizie che riguardano la provincia di Pesaro e Urbino e dunque vediamo la sanità e soprattutto il pensionamento del primario di radioterapia di Muraglia Feisal Buncheila si tratta di un medico di origine libica ma ha studiato a Bologna e opera a Pesaro dal 2011 sono stati quindi intensi anni di lavoro dunque ha compiuto il 16 febbraio il dottor Feisal 70 anni e ha dovuto lasciare obbligatoriamente il suo posto di lavoro per raggiunti limiti di età si tratta di una di un lavoro che ha colto molti successi una dozzina d'anni dedicati intensamente al sviluppo del progetto di radioterapia di Pesaro un progetto che ha toccato numeri importanti è stato un privilegio ha dichiarato il medico un onore servire come medico tanta gente ringrazio ogni singolo membro del personale i miei colleghi medici gli infermieri tecnici fisici e tutto il team che ha reso possibile il lavoro quotidiano ma soprattutto voglio ringraziare ha detto i pazienti che ci hanno affidato le loro vite e le loro fiducia dunque un ringraziamento molto molto sentito per il medico si chiude una parentesi ovviamente lui continuerà ad operare perché poi l'esperienza la maturità è quella che giove in modo particolare nel settore della sanità quindi una ricchezza che non si perde parliamo anche del San Domenico questo grande lavoro che si sta facendo nel centro di Pesaro a ridosso di piazza del popolo ora San Domenico serve a un'indagine archeologica ebbene la superficie libera dalle costruzioni all'interno del chiostro costituisce una buona occasione per sondare come si è fatto prima in piazza del popolo a Pesaro quello che c'è nel sottosuolo ebbene riscoprire l'età medievale l'età romana ancora andando più a fondo è un arricchimento della storia del capoluogo e quindi questo è un input che si fa per cercare di non ovviare a questa occasione perché poi queste occasioni non si ripetono in modo molto celere la grande pica al palo Dionigi folla e applausi per il docufilm l'appuntamento sulla storia dell'epopea industriale presente in sala anche il segretario nazionale della CGL Landini oltre a tanti ex dipendenti ebbene Landini ieri poi è stato anche a pranzo con i volontari nella trattoria sociale utopia quando la trattoria è sociale veramente quando persegue oltre a fini speculativi che sono ovviamente leciti quelli di qualsiasi attività imprenditoriale anche un fine sociale perché qui lavorano 60 disabili siamo felicissimi di aver avuto l'illustre ospite perché dalla carica a tutti noi le canne le cose vanno molto molto bene e vanno molto bene perché ieri per esempio l'altra sera anzi i ragazzi hanno cucinato per la bellezza di 300 persone mentre a pranzo sono stati serviti 150 pasti e guardate che cosa hanno cucinato strozzapetri picchio pacchio questo è il nome della ricetta vitello tonnato dolci acqua e vino sta funzionando molto bene ha detto Andrea Boccaneghi il presidente della Onlus Gulliver che gestisce questa attività sono molto soddisfatto soprattutto sono molto contenti i nostri ragazzi e le relative famiglie quindi una bella iniziativa ed ora diamo un'occhiata anche al carnevale che si è svolto a Villa Fastigi anche se ieri era la prima domenica di Quaresima il carnevale fa il botto addirittura con 10.000 persone quintali di dolciumi e tanto tanto divertimento a Villa Fastigi dunque si conferma il successo della tradizionale sfilata dei carri realizzati dalle parrocchie e dalle scuole e vediamo qui alcune foto di tante persone che hanno fatto ala alla sfilata mascherata vediamo anche qualche notizia che riguarda Fano vediamo qui l'attacco del Movimento 5 Stelle al responsabile dell'urbanistica Fanesi Christian Fanesi ha fatto cementificare ovunque nei quartieri devastati secondo i consiglieri di minoranza i quartieri della Trave Poderino e Paleotta e solo ora dice di voler bloccare la distruzione dei villini per i condomini prima si monetizzava il posto auto che non si poteva costruire ora in due zone non è più possibile procedere al baratto questa è una iniziativa che si è presa per limitare appunto questo proliferare di tanti tanti appartamenti nelle case che venivano abbattute villette une e bifamiliari trasformati in condomini da decine di appartamenti il Movimento 5 Stelle all'attacco appunto su questa questione e probabilmente il vice sindaco replicherà per quanto disposto recentemente Giro d'Italia il sindaco incontra le associazioni per gli eventi si è svolta nella sala del Consiglio Comunale un incontro molto molto partecipato di tante associazioni che possono collaborare alla organizzazione della tappa fanese del Giro d'Italia dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia ma anche per la realizzazione di tante iniziative propedeutiche che possono coinvolgere la città in attesa di questo importante evento grande emozione in vista della tappa di Martinsicuro Fano del 16 maggio prossimo Canavaccio Canavaccio è una zona importante dal punto di vista archeologico anche qui sono state ritrovate tracce della dominazione romana Verdi Partito Democratico e viva Urbino dice la variante che così trasforma la zona di Canavaccio in zona industriale deve essere annullata il gruppo Europa Verde presenta una interrogazione al ministro San Giuliano ci sono reperti archeologici questi vanno innanzitutto scoperti e poi vanno valorizzati facci dei capannoni sopra vorrebbe dire annullare una possibilità di ricerca molto molto importante perché poi anche l'archeologia produce effetti economici perché poi attira turisti fa nascere strutture ristoranti alberghi insomma tante cose interessanti e qui vediamo questa vicenda purtroppo drammatica dello studente che è caduto dal terzo piano della sua scuola facendo un volo di dieci metri non è deceduto e non è nemmeno sembra in pericolo di vita solo che si è procurato molte molte fratture il preside della Savoia ben in casa via l'inchiesta interna solo una annotazione era stato interrogato questo ragazzo probabilmente la sua interrogazione non era andata a buon fine e pare qualcuno insomma la cosa è controversa comunque che a delusione provata l'abbia spinto appunto a così a cadere dalla finestra e la quattordicenne è stabile ma resta in prognosi riservata all'ospedale di Torrette salvo per miracolo dopo un volo di circa dieci metri in pagella però non aveva alcuna insufficienza questo è quanto oggi ci dice il resto del Carlino ora possiamo aprire anche il Corriere Adriatico anzi diamo subito un'occhiata alla pagina alla prima pagina dove l'apertura è dedicata ai lavori del palace del vecchio palace che dovrà servire a tutte le manifestazioni del ROF e poi anche da altre iniziative ebbene i lavori sappiamo benissimo in via dei partigiani sono durati tantissimo hanno trovato tante tante difficoltà ora dovremo essere ad un punto decisivo palace nuovo apertura doppia il vice sindaco Vimini la prima sarà il 29 febbraio per il compleanno di Rossini poi ancora il 7 agosto per il 45esimo ROF la 45esima edizione del Rossini Opera Festival per completare il futuro auditorio Muscavolini il comune corre con gli operai al lavoro anche di notte bisogna questa volta centrare queste date e non dilungare ancora di più come è accaduto in passato la foto notizia è dedicata a un successo della Viz Pesaro che ha fatto l'enplay contro il Pescara travolgendo la squadra avversaria per 4 a 0 quindi un risultato importante i biancorossi trionfano al Benelli e poi i comitati alla carica bloccate le antenne a ridosso delle case sempre a Pesaro a Petriano un affare da 25 milioni la discarica di riceci i commissari chiedono il verbale e in atto appunto l'inchiesta a livello ministeriale per accertare le responsabilità e fare luce su tutte le vicende della discarica di riceci e poi coglie al Metauro un furto sacrilego un furto veramente che ha lasciato senza parole sia i fedeli che i cittadini rubano in chiesa quattro calici dorati un'offesa a Dio e si sa nemmeno se fossero veramente d'oro erano color oro insomma probabilmente questo ha tratto in inganno i ladri che non hanno affatto avuto riguardo per il senso per il valore non venale di questi oggetti cade mentre fra Downhill gravissimo un sedicenne è accaduto alle Cesane nei pressi di Fossombrone l'incidente sulla pista con salti di Fossombrone il ragazzo di Ferminiano ha riportato traumi e fratture e poi a livello regionale vediamo che c'è un articolo che riguarda il lavoro mancano i lavoratori per quanto riguarda le attività stagionali aperta la caccia ma 6 su 10 non si trovano in modo particolare sono i ristoranti che chiedono appunto personale e non lo trovano non lo trovano vediamo subito la pagina di Fano per quanto riguarda il Corriere Adriatico e vediamo che l'articolo di apertura ci relaziona sull'andamento delle iscrizioni scolastiche e iscrizioni il cui termine è stato fissato il 10 febbraio scorso poi comunque per quanto riguarda quelle online poi comunque qualcosa è cambiato e aumentate le iscrizioni per quanto riguarda il cartaceo insomma qualche ragazzo ritardetario si è potuto iscrivere ugualmente dopo il 10 di febbraio a trazione per gli indirizzi sociali cresce anche l'istituto economico le scelte dei 14 anni per le superiori hanno privilegiato il liceo Nolfi e il Battisti del Polo 3 sono questi numeri più importanti vediamo che con il Polo 3 si sono avuti 111 iscrizioni nel indirizzo economico che si coltiva all'istituto vi ricordate l'istituto per ragionieri Battisti ora ovviamente fa parte del Polo 3 e poi abbiamo invece il liceo Nolfi Apolloni che ha veramente attirato molti molti ragazzi in modo particolare abbiamo i numeri 67 per l'economico sociale 63 63 per il linguistico e le scienze umane 50 l'artistico e 40 il classico poi invece il liceo scientifico ha avuto 180 iscrizioni per la sede di Fano e 45 per quelle di Pergola e poi abbiamo anche il Don Orione un buon risultato ottenuto dal Don Orione con 44 iscrizioni all'indirizzo tecnico industriale e 72 al professionale suddiviso poi in diversi altri indirizzi quindi anche un buon risultato per questa scuola ieri si è svolto il primo degli incontri di un ciclo di tre incontri che riguarderanno il femminismo si è svolto alla Memo si sono così poste in evidenza così gli scritti diciamo dire gli scritti di una scrittrice americana attivista femminista afroamericana che ha indagato i grandi temi della contemporaneità e di una prospettiva unicamente femminista poi ci saranno altri incontri domenica 24 marzo e poi ancora la domenica il 14 aprile ci sono altre scrittrici che verranno poste in evidenza e vediamo ora l'incidente che è accaduto sulle cesane nei pressi di Fossombrone cade con la bici sulla pista del Down Hill queste piste così molto scoscese con tante asperità da percorrere in bicicletta insomma pericolose per quanto riguarda le buche poi gli anfratti insomma una questione una situazione non facile ebbene si tratta di un sedicenne che è caduto e poi è precipitato in un in un anfratto dove è stato anche difficile recuperarlo infatti si è usato il verricello ebbene grazie all'intervento degli operatori del 118 e anche di una eliaambulanza è stato trasportato poi nell'ospedale di Ancona sotto shock gli amici che hanno chiamato il 118 ebbene questo è il terzo infortunio che si rileva in quel percorso e qui vediamo il furto rubano in sacrestia quattro calici dorati rotta con una mazza una porta di vetro il parroco Sanchioni offesa a Dio per Giorgio Sanchioni e il suo collaboratore Jean-Marie Quisera sono rimasti veramente scioccati per quanto accaduto ebbene sono cose che fanno male dentro quello non per il valore venale ma per l'atto che è stato consumato rubare dei calici dove appunto si consacra la comunione non è certo un gran bel vedere comunque le indagini sono in corso e si cerca di recuperare il maltolto soprattutto dice Don Pier Giorgio spero che questi calici non servano per celebrare messe nere perché poi si arriva anche a questo causa danni e scappa rintracciato dei vigili un incidente è accaduto ieri mattina nei prezzi di Rosciano una macchina con due persone a bordo è andata a sbattere contro il muretto di un'abitazione ebbene ha rotto le tubazioni del gas pericolo dunque per la zona sono intervenuti i vigili del fuoco i tecnici della società CPL Concordia hanno lavorato a lungo e lavoreranno anche stamattina per riparare il guasto ma l'importante è che la polizia locale è riuscita grazie all'esame dei frammenti della carrozzeria lasciati sul posto e delle indagini che sono state compiute a rintracciare appunto l'auto che poi era fuggita e in questo caso l'hanno rintracciata in un'autocarrozzeria della zona rintracciati anche il proprietario l'autista che ora dovrà ripagare i danni giriamo ancora la pagina e vediamo che a Pergola a Pergola inizia oggi una settimana importante è la settimana che Pesaro ha riservato a questa località nell'ambito delle iniziative di capitale nazionale della cultura capitale per una settimana a Pergola tra cultura e arte ebbene si è alzato ieri nella bella cornice dell'ex chiesa di San Rocco con il laboratorio di canto il sipario sulla settimana che vede Pergola protagonista appunto di questo evento ci sarà anche un ricco calendario che si intitola l'oro blu chiaro riferimento alla mostra che si inaugurerà sabato mattina intanto oggi c'è l'inaugurazione alle 11 in centro storico di tre installazioni sulla linea del blu di Rocco Dubini un calendario da percorrere perché Pergola e poi tutte le altre iniziative vediamo anche la pagina di Serigaglia la palestra di Marzocca a peso d'oro i costi lievitano 100.000 euro in più aumenta la spesa per la struttura dove verrà realizzato il palaschermi e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto a risentirci a rispondere a